Mercati in Piazza dei Signori, Piazza Poste, Piazzetta San Lorenzo, a Vicenza, come nella primavera scorsa in pieno lockdown, percorsi dedicati, accessi e chiusure, transenne per delimitare il passaggio. Sarebbe questo il piano di lavoro su cui il primo cittadino di Vicenza, Francesco Rucco, starebbe lavorando. Soluzione che però non piace agli ambulanti. Non è servito a niente, anzi facendo gli ingressi contingentati hanno creato degli assembramenti, ok? Sì che vedano di pensare a qualcos'altro. No alle transenne tra i banchi che dicono creano comunque alla fine assembramento pronti e disponibili a dare suggerimenti. In una piazza come quella della Piazza dei Signori si potrebbe trovare una soluzione diversa. Dostanziare i banchi, non lo so. I banchi più di tanto non credo si possa fare ma ci si potrebbe lavorare anche su questo. Si potrebbe trovare una soluzione alle entrate della piazza eventualmente. Che chiedono un po' di consigli a noi che sono 35 anni che sono qua in piazza. Come nei centri commerciali non dovrebbe essere il numero calcolato in rapporto all'area calpestabile. Sicuramente è fattibile anche qui fare un calcolo di quelli che sono gli spazi e del numero di persone che potrebbero accedere al mercato. Quindi un'entrata e un'uscita principali. C'è poi chi invece vede nero e non ne fa una questione tanto di transenne ma piuttosto di un venir meno della gente e della voglia di acquistare. Arrivati a questo punto vedi anche oggi che non ci sono gli ingressi contingentati, non c'è gente, non c'è lavoro, non c'è niente. Personalmente ritengo che piuttosto che andare su ingressi contingentati con queste nuove norme è meglio che ci sia un lockdown totale, chiudere e almeno stiamo a casa. Perché venire a lavorare per fare incassi che non prendi neanche le spese, io personalmente preferirei rimanere a casa e rimanere chiuso.